La leggenda dice che il fantasma del guardiano è ancora qui. Chi sono gli suoni? Aiuto! Aiuto! Se non fossi arrivato io... Per fortuna ero qui. Il tipo è inquietante. A me è sembrato carino. Niente è come sembra. L'amore è pericoloso. Mamma, ho conosciuto una persona meravigliosa. Saprò mantenere il controllo stavolta. Per il ciclo del segno del giallo, in prima visione assoluta, lei è sempre la mia follia. Questa sera, 21.20, Rai 2